Non sono impazzita, partecipo a una collaborazione ideata, è pensata da Daniela e poi sviluppata anche da me perché ho voluto fortemente delle ragazze per questa collaborazione. Questa è una collaborazione come vedete sui segni zodiacali, i segni che ci appartengono e quindi io sono pesci e ho realizzato un make up stravagante come sono i pesci e è un po' pazzerello, no vabbè, è tranquillo diciamo dai. Certo non andrà tutti i giorni, però dai, è simpatico. Allora, ho cercato di mettere insieme i colori dei pesci tropicali, quindi questi bellissimi colori dal viola, l'arancione, il giallo, al mare e appunto alle acque, le acque profonde, agli abissi marini e queste sono le bollicine, ma dai, mi sono divertita tantissimo. Io ringrazio veramente, ma veramente, veramente, veramente le ragazze che hanno partecipato a questa collaborazione. Spero che si siano divertite anche loro, che hanno preso veramente questo make up come un gioco. Io ho fatto così, io mi sono divertita, mi sono lasciata andare. La musica che sentirete nel video velocizzato è di mia creazione, fatto apposta per questo video. Che altro dirvi? Vi ringrazio ancora tutte le ragazze, non vedo l'ora di vedere tutti i video. Niente, vi lascio al tutorial e un bacione. Ah, ok. Grazie. 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 Grazie.